Cari amiche, cari amici, il momento è grave. Il mondo, come lo abbiamo conosciuto, si è cappottato. Le gare sospese, viaggi e raduni annullati. Bar e ristoranti chiusi, persino l'Octoberfest è stata cancellata. Ma noi, eroici in moto, non molliamo. Restiamo in scia, appena un metro e mezzo di distanza, al cornuto virus, pronto alla prima occasione a metterla la freccia e a superarla, riprogrammando tutte le nostre attività, a cominciare, naturalmente, dal più classico dei nostri incontri, polvere e gloria sulle strade dell'eroico in moto. E mentre attendiamo che la Prefettura ci assegni in settembre una nuova data, per questa davvero straordinaria edizione 2020, con un'eroica vanguardia del 6% abbiamo organizzato una versione on life dell'eroica, cui ognuno di voi potrà partecipare, guidando comodamente da in sella al proprio divano. ciò avverrà il primo fine settimana in cui anche noi motociclisti riguadagneremo la nostra libertà, scopriamo come. Andiamo, proviamo questa nuova esperienza di guida. Allora, quale modo scelgo? Io direi che la mia migliore probabilmente è Himalaya, via! Mi senti? Sei pronto? Ok, dai, accendi la web che andiamo. Ottimo! Sì, ci siamo! Via! Sì, ci siamo! Sì, ci siamo! Sì, ci siamo! Sì, ci siamo! Una bella sgata! Non è che accelera tanto come l'aria, eh! Quì! Quì! Sì, ci siamo! Diciamo la curvetta! Seguiamo la strada! Qua è la scala della strada! Ok! Sì, sì! No, beh! Vento, vento! Prendi l'iniziativa! Eh, qua, aspetta che mi casino qua perché sono al contro... Cioè, comandi al contrario! Non ti vivi la vita! Oh! Dai! Accelera! Allora, eroici in moto, arrivederci a presto! On the road! E nella paziente attesa, con mascherina e guanti perfettamente a norma in PCM, concediamoci almeno un brindisi reale! A noi! A tutti noi! Ci... Cin cin! Salute! Oh, Giovanni! Sono anch'io! Più di due mesi che non vado dal barbiere! Un c*****o! Hai anticipato sei ansioso? Eh, non lo so! Non lo so! mi sei castrato bye